Ciao e benvenuti su MyFootballJersey. Quella che vedete oggi è la terza maglia dell'Olympique Lione per la stagione 21-22 nella versione FUN o REPLICA, la maglia dedicata ai tifosi che vanno allo stadio pronti a dominare con un look in bianco e nero. Quella che vedete è la versione FUN della maglia indossata dai giocatori dell'Olympique Lione quando scendono in campo con la terza divisa della stagione 21-22. La maglia ha un collo AV a coste di colore nero. Gli stemmi monocromatici di Adidas e della squadra completano questo kit essenziale dal forte impatto visivo. Una maglia che sicuramente piacerà ai più giovani, nella sua particolarità e dal suo tono dinamico. Uno stile audace per chi crede nei propri mezzi, realizzata con la tecnologia anti-amidità AeroReady e tessuto morbido e testualizzato per garantire un comfort ottimale. Questa maglia è veramente molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. Sono sicuro che piacerà tanto ai più giovani e ringrazio il mio amico Andrea che me l'ha fatta scoprire. E peraltro in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare perché sono fatte veramente molto ma molto bene ad un prezzo molto conveniente. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video e la maglia vi sono piaciuti vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per far crescere il canale e per avere nuove recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione fan o replica o stadium, la maglia un po' più confortevole dedicata ai tifosi che vanno allo stadio. Grazie a tutti!